Buonasera a tutti e benvenuti bentornati in un nuovissimo video oggi senza facecam perché ho scaricato questa mappa in fretta e furia allora ho deciso di giocarlo proprio il microfono anche un altro c'è proprio non avevo voglia di tirare fuori niente lucio cavolo allora mi sono messo che mi sono messo a registrare conseguinti non rompetemi le scatole e registro come impara me e oggi ho scaricato una mappa molto interessante che volevo giocare già da un po se volete vi lascio anche la mappa in descrizione non è un problema payday 2 su minecraft è da tanto che ci volevo giocare a questa mappa sinceramente oggi sono qua sono qua che volevo sciocare questa mappettina cos'è se è arrivato qui sei in inglese quindi se avrete pretese di guardarmi inglese fatta che dal tram comunque ci sono 4 bottoni andiamo a pigiare il bottone comunque se mi piace questa cosa che faccio dai mappi ogni tanto ditemelo nei commenti che ne porto altre ok benvenuto qui dentro a payday 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 mayday mayday ok qui c'è un libro a me F11 mette schermo intero me ne ero dimenticato mi si era stoppata la registrazione hai capito che furbonezze o no io hai capito che furbonezze o no io ok usa la resurpack che le resurpack l'ho scaricata ma è più di una aspetta eh eh queste sono queste ma quale usa è uguale adesso due endgame sono uguali Shanghai se adesso ci metto questa sinceramente perché non so quale metterci quindi adesso ci metto questa vediamo un po' cosa come mi trasforma il mondo dai che mi crasha il gioco dai che mi crasha il gioco ok non mi crasha mi è cambiato un cazzo bello mi piace ok ma che figata ma sono bellissimi vai figata madonna hanno i fucioni ok no mi piacciono tantissimo ok 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 sul pack l'introduzione sopporta 16 chunk ah quindi devo mettere 16 chunk da distanza che sono a ds mettiamo 12 sì perché sennò laggo troppo il mob devo avere il spacco incluso il texture con l'animazione è giocabile fino a 6 ok ok vabbè niente di interessante niente di interessante ok questo vabbè sono praticamente delle cose che quando arrivo a certi punti questa la devo tirare per forza praticamente quando ci sono questi cosi devo fermarmi per forza qui c'è un libro vediamo se capisco c'è scritto grazie per aver scaricato la mappa vabbè è stata creata vabbè abbiamo capito tutti ok devo mettere la reso pack safe safe house l'ho già messa che bravo che sono guarda quella scritta anche devo vedere questa ok devo metterci safe house devo metterci per ora però non ho capito perché c'è anche questa perché c'entra questa che l'ho provata anche che l'ho provata tra l'altro spigio qui ah ok mi dice la descrizione la spiegazione scritta ok quindi devo scegliere anche nel caso sempre giocatori credo ma io sono solo io ok pigio per saltare ok sono qua sono qua sono qua ok pigio il bottone se sono da solo via vedi due no dai la schermata di caricamento no dai veramente seri no dai bellissima bellissima grande no anche il coso che gira no vabbè da con questa si becca al 10 e lode dai no dai nuovo obiettivo entra nella safe house la porta entra nella safe house ok credo che sia sia quella questa qui è open safe house non è questa ah no questo è solo per lo staff che non ci devo andare io ok apri la porta del momento ok è disabilitato cosa che è two second guys due secondi ragazzi non è disabilitato l'ascensore ok non mi fa andare quindi direi che non facendomi andare forse devo andare nella stanza dello staff bella ok ah ok devo attivare la leva dell'ascensore cioè devo spinta così grande disabilitato l'ascensore ora posso entrare a cosa che sto facendo benvenuto allo shanghai buonasera mi offre una mela d'oro per uno smerato grazie molto gentile ah devo seguire il percorso di blocchi viola vabbè è studiata bene ok seguiamo il percorso di blocchi viola cosa è successo oh no ok ok seriamente no bellissimo ok vai a sbloccare e sblocca l'armeria ok armeria oh dove sono ste botte ah l'armeria vabbè giustamente l'armeria di qua ok devo andare di qua eh sblocca l'armeria e vai sbloccata l'armeria eeeh l'amato eeeh i proiettili io ti botona bellissimo ma devo prenderla sta roba devo prenderla non ho capito no credo di no aspetta la rimetto la rimetto a posto non vuoi incasinare nulla e non lo so c'è una bacchetta eh non ho capito se la posso prendere sta roba eh non l'ho capito ma penso di si eh solamente è per l'idea ma io penso che la posso prendere madonna che figata io prendo anche i colpi no ok che figata ok 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 troppo divertente vabbè soppure c'è visita il market dealers io mi ho sorpresa l'arma ascolta ah questo ah ok visitare lo shop di armi che figata non diamante cioè qui compro proprio le armi no dai che figata proprio c'è tutto madonna bellissimo io mi perdo in sti posti qua eh mi perdo però però dai andare pianino mi scoccia proprio oh il cesso il cesso ho trovato vedete devo entrare al cesso e sia maschi e femmine poi che carino ho sbloccato andando nel cesso ho sentito un rumore andando nel cesso che cosa c'era nel cesso ah la cucina oh il mio thef thef there ah ecco cos'erano che carini scusa un attimo la cucina non c'è un cazzo da mangiare ma bella la cucina utile soprattutto c'è la cucina senza cazzo ah questa c'era dai sarà pure da mangiare una cera oh proprio questo che figata però sembra una cazzata ma sono carina queste cose a me piacciono quindi devo cercare entrare nella libreria va bene cerchiamo ancora sta libreria ecco la libreria trovata non è entrato e mo ah c'è la pulsante è la pulsante l'ho visto l'ho visto cos'è giorno 1 giorno 2 dei 1 oh però ho cliccato dei 1 vediamo cosa succede oh oddio cosa è successo cos'è successo eh chest wall ah ok ah qui c'è scritto cosa devo fare art gallery obiettivo 1 infilati dentro della galleria d'arte cerca e mi raccomando sei nascosti quattro quadri ah ok devo trovare quattro quadri nella libreria buongiorno lei ah lei è bene è il mio capo buongiorno capo eh sì sì sono prontissimo via devo andare andare devo essere sneaky sneaky devo farmi vedere ok nuovo obiettivo devo essere sneaky sneaky entrare nel museo deve essere quello il museo deve essere quello quello il museo come si fa ad andare sneaky sneaky su minecraft soprattutto nel microfono come come si va andare di qua andare di qua forse eh si deve essere quello capito l'art gallery deve stare questo ma com'è che funziona apro la porta apro la porta bigliaca penso di aver già perso la missione penso di aver già perso la missione che bello sono queste le cose belle della vita quando perdono le missioni c'è scritto area video sorvegliata proviamo ad andare nell'area video sorvegliata piano piano ma forse entrando no salgo per le scale non dovrebbero trovarmi ah questo è il condotto dell'aria ah interessante ok sotto sono gli obiettivi i quadri c'è la guardia devo farmi vedere il silenzio silenzio di tombola ah forse devo andare forse c'è un buco sul tetto a me sembra di ricordare delle missioni dove c'era tipo di finestra aperta ah no ecco ecco dicevo che devo trovare una finestra aperta invece di qua ok 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 sono dentro sono dentro non le faccio vederli però io scusa sono scheletri non è che posso ok mi spigliano sti rossi sold madonna no porco giorno giorno una che avevo preso madonna avevo preso i colpi madonna pom madonna pom non ha visto nessuno mettiamo il quadro ecco a post oddio l'allarme devo fuggire dove si fugge di qua si fugge di qua non si fugge di qua ah ok ho spento vai vai ho spento ho spento spengo anche le telecamere ho spento ah no chissà che devo andare oh devo fuggire no ok ho spento l'allarme ok perfetto sto prendendo entrambi non ho capito benissimo se è questo i quadri che dovevo prendere non me lo ricordo missione proprio in stealth non mi ha visto nessuno se non la mmm siamo amici siamo amici spalle non mi ha visto speri se mi ha visto no tu non mi hai visto qui tu non mi hai visto eh bravo dite che non mi hai visto eh ah eccoli ah è questo ma affanculo devo prendere questo vaffanculo ho preso quello sbagliatissimo aspetta eh aspetta mettiamo questo mettiamo via questo ok aspetta dottorani indietro allora che devo riprendere il quadro giusto che pirla ma che pirla ma che pirla ma che pirla eccolo cioè poi neanche l'avevo capito eh che era questo vabbè sono invornito io ma devo prendere altri due quadri eh allora proviamo andare di qua eccolo vediamo eh 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 ok stanno arrivando stanno arrivando ah beh dopo non arrivando oh cazzo non l'avevo più capito l'avevo capito devo accappare ecco l'ultimo buongiorno lei deciderà qualcosa non compro nulla non compro niente non compro dopo se fai male non compro niente ok l'ultimo quadro ho preso tutti ora devo fuggire devo uscire da qua ma io quasi qua esco dalla porta ma chi se ne frega esco dalla porta puttana vigliaca la madonna no no vi vedi qua no tu dove si esce come si fugge via via ma come si esce no si passa come si fa non ho capito oddio no 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 certo certo più gente no eh car park dove devo andare dove devo andare ah qua qui devo andare la madonna qui devo andare via 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 ok ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta verso il bottone devo pigiare di nuovo via 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 ok 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 ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ho preso i quadri no parlotte e sti scemi qui grande lavoro ragazzo i quadri anche devo portare i quadri nello shop del bagiamento qua sotto devo portare tutto giù oddio che fatica però sarebbe i soldini qui ah qua devo andare ah ok devo andare di qua per gli item che devo fare cosa sta no che cazzo polizia non ti muovere ma che cazzo ma che cazzo succede ritorna ma che era sta roba cos'era item fencer ah ok non ho capito che devo portare la roba lì chi pirla ok lo shop dove devo portare la roba lo top e non ho capito per vendere questa roba dove devo andare lo shop ma questo coglione non lo offende la roba lapislazzuli no non ho capito non ho capito non ho capito non ho capito armory item fencing item fencing però deve essere qui aspetta forse devo è questo item fencing vado qui bisogna andare a stare il piano giù non devi vedere nessuno ma devo andare di dentro vedi se vado pianino non vede nessuno quindi forse è quello il trucco ma dov'è che devo andare qua è chiuso quindi per portare a andare di qua piano piano mi deve vedere nessuno piano no mangiare la carota piano mangiare la carota no poliziotti non fatevi vedere non fatevi vedere piano 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 che fencer ah vedi che dovevo portare da sto scemo tac da lì da lì tenga prante prante vedi ma che avevo capito bene valgono un casino queste cose ho sbriciolato un museo praticamente per prendere ma ne valsa tutta la pena ne valsa tutta la pena preto grazie lì dietro di corsa via 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 ok ok nam الإquipaggiamento pizza vehemento mettiamo voglio 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 questa dimensional storms uno Ma un po' carino come diamante Taggiamento La scarpe Poi Voglio il resto Lezzo sopra Lezzo sopra No devo prendermi tutta l'armatura Quattro blocchi Tutti Madonna mia sei caro Che pirla Che devo fare Ah ecco perché Ah quindi posso avere soltanto così Sto vestito così Ah ok Vabbè sto vestito così Guarda che carino Guarda come sto carino Madonna Madonna che Guarda come c'è un carino Madonna che Bene ragazzi Spero che il video vi possa essere piaciuto È un video un po' improvvisato Quindi non c'è fisca Me l'ho fatto proprio a cazzeggio totale Spero che la mappa vi possa essere piaciuta Ditemi se volete che porti in seguito Perché se no me la finisco per conto mio Quindi ditemelo in fretta Ditemelo veloce Lasciate il pollice sul video Ricordo di lasciarlo se non vi ha piaciuto questo video Commentatelo Condividetelo comunque Anche accesso mi raccomando E niente Per un momento Possiamo dire Che è finita Madonna vi sparo T'è dietro lo schermo Guardami negli occhi Dichi mettere like Dichi mettere like Mettere like Pum Morto Anche tu? No tu l'hai messo? Bravo Mi tiro l'arma Vedo l'arma Dichi mettere like